Cari amici, cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Titolo del video, Pornostar in miseria, Pornostar in miseria. Il fatto è, cari amici, che tempo fa, non tanto tempo fa, io avevo pubblicato il video intitolato Pornostar, un clisterino alle 4 del mattino, spiegando cosa si doveva fare per fare le Pornostar o anche i Pornostar, ma specialmente le Pornostar. Ve lo metterò nel riassunto a questo video e il link relativo al video Pornostar, un clisterino alle 4 del mattino. Ora, un caro amico, un carissimo amico di cui vi metterò il nickname, il riassunto di questo video, mi manda un articolo dove c'è una pregiata Pornostar che dice delle cose bellissime, e cioè che oggi come oggi non ci si guadagna più niente a fare la Pornostar e anche il Pornostar, anche il Pornostar lo dice, lo dice, è proprio scritto, scritto, lo leggerete con i vostri stessi occhi, non ci si guadagna più niente. Dice che al massimo, al massimo, una Pornostar o anche un Pornostar, al massimo, al massimo, si porta a casa l'ammesata di un impiegato statale. Beh, ma è tanto tempo che ve le dico queste cose. E perché? Perché è successo questo? Ma perché esiste Internet by Night? Cioè, Internet di notte si fa per dire, e dove c'è un'offerta incredibile, un'offerta, decine di migliaia, centinaia di migliaia di bellissimi ragazzi e anche dei bei giovanotti che fanno tutto, fanno tutto e di più, e voi li potete vedere gratis. Non conviene più. Ho già detto che oggi fare il mestiere della Pornostar o del Pornostar è fuori tempo massimo. È fuori tempo massimo perché c'è Internet by Night che ha fatto saltare tutte le regole del gioco, capito? Oggi nessuno ha più bisogno di andare a comprare i filmini porno, i filmini porno. Per cui ho sempre detto alle ragazze, anche i ragazzi, anche Rocco Sifridi non sa passare mica bene, eh? Uh, c'è una concorrenza Rocco Sifridi su Internet by Night, c'è una concorrenza sfrenata da parte di bei giovanottoni, bei giovanottoni, che fanno tutto, e gratis, tutto gratis, fanno tutto e di più è tutto gratis. Internet by Night è un mestieraccio. Anche Rocco Sifridi deve cambiare aria, si deve riconvertire su qualcos'altro, capito, cari amici? E poi Rocco Sifridi e tutti gli amici suoi devono pensare pure a quando saranno vecchi, alla pensione, capito? La pensione, eh? Perché non è che la cosa funzioni sempre, eh? Non funziona sempre, però si deve mangiare anche dopo che la cosa non funziona più. Vabbè, cari amici, godetevi lo spettacolo dell'articolo, leggetevelo bene l'articolo dove si dice chiaro e tondo che oggi lei porno star e di conseguenza anche i porno star e vivono dei tempi tanto amari, tanto amari! C'è scritto, c'è scritto, eh? Io ringrazio tanto l'amico che mi ha informato perché mi ha confortato, perché io queste cose le ho sempre dette, però mi mancava il conforto, il conforto, l'avallo, mi mancava l'avallo dello scripta manent, scripta manent, verba volant. Grazie, ringrazio tanto l'amico, grazie a tutti voi, cari amici, e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni. Grazie. Grazie. Grazie.